La signora, il conto è stato pagato da quel signore là. Grazie. Ecco, facciamo. Era il minimo che potevo fare dopo quel tuffo che ha schizzato tutta quanta. Si, figuri. Mi chiamo Moreno. Blanche Duval. Inglese? No, francese. Madonna, mi aderaglio sempre su sto francese, mi ha portato fuori stata il Duval. Mi scusi. Prego, prego. Hello, Paul. Yes, how are you? Sorry, can you call me back later? I'm busy right now. Thank you. Bye. Lei pure col cellulare in mano è un ritratto antico senza cornice, lo sa? Non so se prenderlo per un complimento. Certo, mica, volevo dire che era una vecchia. Volevo dire che c'ha dei tratti da una raffinatezza, dello stile che gli ha manca la cornice. Se me permette, sta cornice gli ha, lo hai fai io adesso. Questo non si fa, questo è meno elegante. Chiedo scusa, chiedo venia. Comunque ho notato prima che lei usa un cellulare un po' vecchiotto. Gli ha fatto aggiornamento del software. Cosa? Se lei gli fa st'aggiornamento del software, lei si può scaricare delle immagini, delle animazioni. Può pure chattare, lo sa? Sì? No, questo non fa proprio per me, va benissimo così. Comunque tenga presente che io ho cinque punti vendita, tre su raccordo, due a Roma 100. Quando vuole vendita, lei l'ha benvenuta. Mi veda. E io non ha tratto bene, ha tratto stra bene. La ringrazio, è stato gentilissimo. Ma se figuri, grazie a lei. No. Ia bientot. Sì, dica signora. Senza resto, mancione di suma 9. Vai. Grazie signore, arrivederla. Salve. Arrivederci. Arrivederci.